Allora, dottore, chieda a lei, la fibromialgine, aveva accennato, che tipo di patologia è, chi ne viene affetto preferito e come si può anche venirne fuori? Ecco, è un reumatismo non informatorio, molto comune, dopo l'artrosi è probabilmente la patologia reumatica più comune, quindi parliamo di probabilmente un milione e mezzo di persone. Che sintomatologia ha per il capire? Sono prevalentemente donne, ed è una sindrome costituita da diversi disturbi, il principale sono i dolori diffusi, dolori molto importanti a volte, dolori muscolari e articolari, soprattutto muscolari, ai quali però si associano altri disturbi molto invalidanti come un sonno che non è mai un bel sonno ristoratore, difficoltà nella concentrazione, spesso ansia, a volte c'è depressione, una grande rigidità muscolare soprattutto al mattino e debolezza, una debolezza muscolare piuttosto importante, spesso soprattutto agli atti inferiori. e poi ci sono tanti altri disturbi che possono affiancare questi principali, si va dal colon irritabile, alla cefalea muscolotensiva, molto spesso si trovano anche micrania, dolori addominali, non meglio compresi per dire il vero, tutta una serie, una costellazione di altri disturbi, ma essenzialmente sono dolori muscoloscheletrici e cronici, la cronicità noi la stabiliamo così per convenzione dopo i tre mesi di durata dall'inizio, ma molto spesso le pazienti ci arrivano dopo anni di dolori, non diagnosticati. Ma a livello di, non so, anche degli esami del sangue, dei valori eccetera, non emerge nulla? Ecco, gli esami del sangue sono assolutamente normali, non emerge nessuna anomalia, ma neppure gli esami radiologici più raffinati consentono di evidenziare... Quindi non è come l'ostoporosi? No, assolutamente, assolutamente. Ma si guarisce? No. Ci trae giovamento con l'acqua termica. Qui conclude troppo rapidamente, il discorso è, ma si può curare? Ecco, si può curare, si deve curare. Che cure ci sono? Ci sono molte cure che vanno appaiate il più delle volte. Ci sono cure farmacologiche, ma ci sono anche molte cure non farmacologiche e tra queste l'attività fisica aerobica e all'interno della quale troviamo la idrochinesi terapia in acqua termale che ha dimostrato di avere una importante efficacia. naturalmente da sola una terapia non basta, come le dicevo c'è bisogno di un affiancamento di più, di una strategia complessa dove c'è spazio per i farmaci, alcuni tipi di farmaci ce n'è diversi, la terapia, la psicoterapia può trovare luogo, l'agopuntura può trovare utilità e la terapia, come si diceva prima, termale, ecco, assolutamente. Quindi si trae il giovamento, si cerca di curare, però il venirne fuori, venirne a capo e quindi, come dico io, guarire è difficile. Dunque la guarigione vorrebbe dire non avere più bisogno di nulla, cioè una persona guarisce quando non ha bisogno di terapia. E non è in questo caso. Questo caso può succedere che le persone migliorino e anche guariscano, però noi non abbiamo farmaci o terapie in grado di guarire, noi abbiamo terapie che sono in grado di sostenere, di aiutare e molto spesso è il paziente stesso che ne viene fuori. Ecco, questo è importante perché dà almeno una speranza. C'è una cronicità, molte persone ne soffrono per anni, ma ce n'è molte che ne vengono fuori molto bene. Questo è importante. C'è un altro messaggio che era arrivato, vediamo se dalla regia ci lo rimettono in onda, c'era una domanda di un telespettatore, vediamo un secondo. Per bronchite cronica con asma le vostre inalazioni sono utili? Certo, sono utili e basta che praticamente il paziente si sottopone a questa ventilazione forzata sostanzialmente a inalazioni, basta che si faccia fare dal prentico curante o dalla pneumologo un impegnativa e può fare un ciclo di inalazioni con ventilazione polmonare. Un ciclo cosa? Un ciclo in genere sono 12 giorni, 12 sedute. E a livello anche preventivo delle famose bronchite che hanno i bambini, possono essere utili? Quello siamo organizzati con la stanza del sale, dove i bambini respirano in un ambiente particolare, viene rilasciato queste molecole saline che fanno molto bene nelle bronchite ricorrenti, nelle laryngotracheite ricorrenti. Sono sempre accessibili o adesso no, in questo periodo qui? No, non sono accessibili, attualmente sono pure accessibili. Perché comunque si può entrare senza mascherina, perché se no deve respirare? L'idea, dicevo, noi siamo covid free. Sono tutti controllati chi entra, voi siete tutti vaccinati, quindi le persone possono fare tranquillamente queste cure e quindi non ci sono problemi. Vengono fatte assieme, soprattutto se sono bambini, a una nostra operatrice, in modo tale perché è una stanza abbastanza grande, però è sempre una stanza chiusa dove vi sono dei giochini per i bambini, giochi anche per intrattenerli, soprattutto per i bambini asmatici e broncopatici. Vi garantisco che il posto è bellissimo, con grande parco rilassante. Ah, c'è anche un parco. L'unico problema è il ritorno stradale per rientrare a Palmanova, ma è così dappertutto. Questo magari in periodi di affollamento. Qual è il periodo migliore? Un altro messaggio però. Buongiorno, da anni vado spesso alle terme di Bibione alla domenica con la mia famiglia e vi dico che sono molto salutari e distensive, bravi. Quindi si può accedere anche da esterni, adesso con la prescrizione naturalmente medica, eccetera, quindi si può fare. Qual è l'età minima per accedere a queste terme e l'età massima anche? Anche neonati, accompagnati dai genitori, chiaramente, o anziani che sono autonomi o accompagnati da qualcuno, cioè non abbiamo un'età di limitazione. Forse la signora si riferiva anche all'attività, diciamo così, di piscine che sono immerse, proprio queste piscine, in un grande parco russoreggiante, molto verde, con la possibilità di poter accedere al bar e anche a un ristorantino che abbiamo sempre nella struttura. Per cui è molto rilassante. Ci sono tante famiglie che vengono e che penso che verranno quando si liberalizzeranno qualche cosa a fruire di questa possibilità, diciamo, di salute. Anche quello è tutto fronte mare. Aspita, è proprio proprio una. Quindi basta passare il cancello, sei a mare. È proprio uno stacco dalla realtà assolutamente piacevole. Ecco, in genere questi cicli di terapie possono essere interrotti, cioè ad esempio uno può dire faccio tre, 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 un po' come avviene in base ai fine settimana, non so, venerdì, sabato, domenica, nei periodi belli, quando è consentito può farlo. Ugualmente l'interrompere qualche giorno la terapia, se di fango... Si mette d'accordo con l'operatore e con la segreteria e decide il periodo quando lo vuole fare. Chiaramente compatibilmente ai posti liberi o meno che ci possono essere, però si può fare. Voi avete anche, anche se adesso è chiuso, un centro benessere. Sì, è un bellissimo centro benessere, molto ampio, anche nel centro benessere ci sono due piscine. Facciamo sognare i telespettatori perché adesso è chiusa. Abbiamo del personale estremamente preparato e bravo, dove vengono fatte tutti i tipi di benessere che lei può immaginare, abbiamo un pubblico anche là internazionale, sia italiano che straniero, che fluiscono, è un ciclo che si può accedere poi alle piscine grandi, quindi è tutto un ciclo che viene fatto all'interno dell'istituto termale. Purtroppo per motivi al momento Covid eccetera, i centri benessere sono quelli anche penalizzati, anche perché c'è il blocco del passaggio da regione a regione se non per motivi sanitari. Il centro benessere purtroppo non è un motivo sanitario, per cui noi avevamo incominciato ad aprire, però il numero di pazienti era sostanzialmente locale e quindi non riusciva a coprire le grandi spese che ci sono. Quindi al momento siamo in stand by. Ecco, in attesa naturalmente di riaprire e di avere maggiore apertura, questo senza dubbio. Una battuta di chiusura, siamo in chiusura dottore, a lei? Direi che abbiamo questa opzione, questa possibilità a portata di mano, direi che merita di approfittarne. La struttura è molto ospitale, tenuta benissimo. Poi il fatto di essere vicino al mare ti allettano. È rilassante soltanto entrarci, bisogna provare. Bisogna provare, questo è un messaggio anche per prestare meglio di salute che non è cosa di poco conto. Io vi ringrazio, ringrazio il direttore, ringrazio il dottore di essere stati qui con noi, avete rispettato di averci seguito e di aver partecipato. Come sempre poi la puntata la potete rivedere anche sul nostro sito e su YouTube. Naturalmente un buon proseguimento domani. Grazie a voi. Grazie a voi.